Il sistema modulare Modu prevede vere e proprie espansioni hardware al piccolo telefonino che costituisce il cuore del sistema, i Modu Jacket e i Modu Mate. Tramite i Modu Jacket il cuore può diventare un music phone con batterie e memorie aggiuntive, un palmare con tastiera estesa, una fotocamera con funzioni telefoniche. Sarà inoltre possibile cambiare cellulare, cambiandone l'abito, per adattarlo alle situazioni d'uso, elegante per la sera, rugged per le gite fuori porta, dotato di tastiere più o meno estese. Inoltre, tramite i Modu Mate, sarà possibile integrare il cellulare nei dispositivi più disparati. Sono già attivi accordi con Blaupunt per la realizzazione di un autoradio e con Magellan per quella di un navigatore satellitare con funzioni telefoniche. Come sempre, sarà il consumatore a decretare o meno il successo del prodotto. Le buone premesse però ci sono. Per quanto riguarda l'Italia, è già attivo un accordo tra Modu e Telecom Italia, che dovrebbe portare il telefonino modulare nel nostro paese entro la fine dell'anno. Interessanti i costi dichiarati dall'azienda israeliana che lo produce. Modu dovrebbe essere proposto in bundle con due jacket a scelta, a circa 200 euro. Inoltre, l'acquisto di jacket aggiuntivi dovrebbe comportare un esborso compreso tra i 20 e i 60 euro.